Signore, benvenuto nella Coppa del Nondo degli Scarsi del Torneo degli Youtubers In realtà noi non siamo scarsi, noi siamo differentemente forti Ed è... Per me è a nostro modo, ed è proprio per questo che abbiamo tantissime come in questo modo E fratello, io ti voglio un bello carico per questa sfida Non sono per niente contento, io dovevo essere nell'altra finale, non nella Coppa del Nondo Va beh, allora sai cosa ti dico? Me la prendi la Coppa del Nondo Vieni, iniziamo! No, noi siamo come dei presti, la rabbiamo dei coach Lui avrà il suo scarso Let's go! Loro sono gli scarsi, insomma E invece io e te fratello? Sì, zio! Siamo i più forti anche! E vi deve dare una carica che non ho mai visto Guardatello, sei carico o no? Sono carico! Let's go uomo! Andiamo! Andiamo e la palla parte! Eeeh, la palla cazzo! Disgustosa te! Giochi con calma, non siete... Gioca! Boa! Si carico, si carico! Io sono carichissimo! Io! Ma come partito Boa? Allora best, gioca tra poco a me in difesa La difesa è il migliore attacco! No, non è un problema, non è un problema questo, fratello Boa! La difesa è il migliore attacco! Che pochino! Segui! Goal! Goal! Questo! Sei un rin*********to sei! Va bene, lo accettano! Mi concentro tantissimo! Mi concentro tantissimo! Cosa le deco? Oh, non devi mangiarlo! Non devi ucciderlo veramente! Oh, non devi mangiarlo! Non devi ucciderlo veramente! Qua a me sembrava ultra fallo, non devo fallo eh! Non vale! Non c'è un arbitro e quindi non può dire le cose che vuole, coach Ferro! Ma che tanto lei si muova! Si muova! Oh, vado piano! Vado molto piano! Non può andare piano quanto vale ma tanto è il più forte! E' solo Poa! Si! Ma cosa... Se il coach mi dia una mano, un mestello che continua niente, ti sta incartando da solo! Odice Poa! Guarda le legate! Si investe! Vai Poa! Ehi! Vai pianino! Nooo! Cosa! E' così che l'ho destrato cavolo! Eh ragazzi c'è un problema, il mio allievo mi sa che è un po' stupido! No ragazzi non c'entra per il semplice fatto che devo caricarmi! Io sono come un robot! E devo comprare questo che ha iniziato a dare! Sei un cretino! Fine! Stavo dicendo che inizia il terzo mese! Comunque siamo a 2 e 1 e si ricomincia! Attenzione! Palla in centro! E' attenzione! Ma pure la riprende in centro! Uuuu! Ed è già! Non è possibile! Non è possibile! Ragazzi è tutto merito del coach! Ragazzi non è merito del coach! E' merito di Best! E' tutto merito del coach! E lei signor Efe non solo le prenderà qua ma anche in finale! 3 a 1! Comunque ricominciamo! Poa io voglio che non venga più dalla tua parte la parte! Ma mi sta dando i calci da questo! Entraci col colpo! Va bene! Cos'è colpo! Questo non è venuto! Questo non è venuto! Questo non è venuto! Usa il fisico Best! Usa il fisico che è più forte te! Piuttosto prenditi le gambe! Piuttosto prenditi le gambe! E' la madonna! Siamo poi esagerati con il coach! Però lei ha ragione! Guarda la palla! Oh! Oddio! Oddio l'ha fatto veramente! Oddio! 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 però prosegui la best sii e ragazzi c'è addirittura il 5 a 2 no sbagliate voi c'è addirittura il 5 all'ora la sbagliata abbiamo fatto abbiamo fatto il gol mentre cazzi oh è 5 a 2 vai io sei scarso ok vai bene va bene comunque mancano 60 secondi signori si parte si prosegue bravo ma perdete il calcio ma scusatemi gioca in difesa stai vincendo bravo facchio bravo 5 a 3 palla al centro signori dammi il 5 uomo vai guarda la palla 30 secondi bravo bravo guarda la palla ti ami bagli vicino usa il fisico e buca la palla seeeh forza basta a favore seeeh va bene così signori abbiamo 20 secondi è un 5 a 4 best palla best 20 secondi palla di best muoviti per best lanciala via lanciala via piuttosto lanciala via si va bene prendi la palla veloce la palla a paura tienilo vai puscialo prendi la palla il segna prendi la palla il segna tienila lì tienila lì con calma mancano 10 secondi o meno sta per finire il tempo mantieni mani 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 finito basti stop al primo tempo allora fratello devi essere un pelino più carico ti sta battendo vuoi essere venuto io ti sto demorezzando prima che vada sai cosa dite tu dovresti vincere la coppa del mondo arrivando poi riportire il secondo match e questa volta guarda che usa il fisico che ce l'hai mi è stare fatta tantissimo il mio cuocchi non ti far scoraggiare zio ce lo faccio io oh ah 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 ragazzi ma che piedi del cacchio ma mi hai tirato comi i pattaloni non ti metti had tutto per tutto mi sta spaccando tipo la tua porta è dall'altra parte lo sapete volevamo pure indietra al giarre nessuno come faccio hai mettendo una graffiata una graffiata best segna best segna non ti fa fare il gol porca di quella miseria no best autogol autogol no 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 sulla riga l'ho visto bene ma signor best non può magliare un gol ma mi ha fatto tu male boia e quindi peggio di me cosa ce ne vuole veramente io lo farei giocare best visto che sei dietro la porta una palla cosa ne faici attenzione oh mio dio oddio è tutto gioco è tutto gioco aia e ora che sto diventando scemmo signori è venuto un campo o è venuto un campo po a veloce e pece tu ma non è venuto su un campo dai a 4 per il mio campione la palla e adesso vedo gioco il gol così si è tormentato vai almeno adesso c'hai la testa sulla palla signori me lo farò vedere io che sono un meglio di ferro come coach madonna mia questa volta sai cosa gli dico andrò più piano ed è proprio per questo no 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 mi sono parata potete vincere te sei più forte non andare più piano perché che l'ha messo il sapone vinciamo la coppa del nonno non fa un gol questo è incredibile posso cambiare il mio allievo no sicuramente il coach ha insegnato male si prende il testa di sandwich oddio oddio la sponda la piscina c'è la scaletta lì non potete passare che male questa volta veramente non si può andare col peggio mi faccia rispondere un secondo no io l'ho passata si e siamo ad altri due anche hanno ancora due minuti però puoi ancora recuperare se ne sono 7 a 5 ma che non sono quante gol due non sono bravi matematici due comunque io non voglio neanche sprecarsiato li mettono al centro no e si continua ma basta ma basta ma basta ma io non ce la faccio più io direi più a partire invece troppo forte e questo vale più perché era di testa regola inventata sul momento da batteria è solo perché voglio far vincere il mio allievo eh perdonami non lo devi vedere qua però non lo devi vedere qua uno e basta perché le regole sono queste vieni davvero in faccia cretino vieni vieni qua vieni qua ti sei corso no 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 comunque non si possono sapere queste scene via giocate potrete vedere questo io sto giocando ragazzi manca solo un minuto no ma non ci credo no 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 non vale vieni qua no dimmi un po' chi te l'ha insegnato e perché è proprio lì questa me l'hai insegnata a Lionel Messi quando eravamo amici al campetto gang oh sì ragazzi io con questa sinceramente può affidare il tiro no io non lo chiederei perché adesso faccio cosa vuoi ma vale ti ha spaccato ti ha spaccato ti ha distrutto sei sette a sei otto a quattro no no ma io posso per recuperare quanto manca Goccio venti secondi come posso ancora fare io ti lascio la porta libera vai quando è come vuoi ma sei disgustoso gol 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 ha manca ancora l'ultimo e signori la coppa del nonno l'ha vinta best venga qua campione sì 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 sì